Giappone 1945 una bomba dimostra l'impressionante potere della fissione nucleare quello stesso potere viene oggi sfruttato a scopi pacifici ma rimane potenzialmente pericoloso 1979 un incidente alla centrale di three mile island fa fuggire migliaia di persone 1986 un'esplosione e un meltdown completo a cernobyl in ucraina gettano nel panico l'europa da allora le centrali nucleari sarebbero dovute diventare più sicure ma nel 2011 l'impianto di fukushima viene prima scosso da un terremoto poi da un gigantesco tsunami il giappone piomba in un secondo incubo atomico e tutto il mondo fa i conti con il suo patto a doppio taglio con l'energia nucleare un disastro non è un incidente isolato ma una catena di eventi cruciali scoprite con noi quali siano i fattori critici fino a pochi secondi prima del disastro nord del giappone 11 marzo 2011 la maestra d'asilo eriko oriuchi è in classe la stanza comincia a tremare le scosse erano terribili e sono andate avanti per un'eternità tutti gli oggetti volavano in mezzo alla stanza ho pensato seriamente che il soffitto potesse crollare deve agire rapidamente e senza perdere la calma mi sono rifugiata sotto i tavoli insieme ai bambini e ho controllato la situazione il terremoto continua per 5 minuti viene avvertito anche a 230 chilometri di distanza a tokyo eriko si assicura che tutti i bambini siano al sicuro i bimbi avevano tutti partecipato all'esercitazione di sicurezza e hanno fatto ciò che noi maestri dicevamo di fare quindi tutto è andato come previsto i grattacieli tremano e molti edifici crollano l'agenzia nazionale per il meteo misura il sisma la magnitudo è di 9.0 è il terremoto più potente mai registrato in giappone l'epicentro è in mare a 130 chilometri dalla costa ma le prime immagini mostrano devastazioni nell'interno in tutto il nord del paese al centro di tokyo l'esperto di comunicazioni che nei cishimo mura si precipita nel centro sotterraneo per la gestione delle crisi il sisma è stato così forte da far presagire un sicuro disastro umanitario il governo organizza in tutta fretta una riunione d'emergenza vista l'enormità del disastro il mio istinto mi diceva che il governo centrale avrebbe dovuto prendere subito iniziative per conto proprio piuttosto che aspettare le comunicazioni dei singoli governi locali cinque degli impianti nucleari giapponesi si trovano nella zona colpita fukushima è il più grande e ha una potenza tale da fornire energia ad ogni casa di tokyo lo staff del primo ministro non è in contatto diretto con gli impianti le informazioni fornite dalla tepco il gestore di fukushima vengono filtrate dall'ufficio governativo per l'energia nucleare guidato da yoshinori moriyama subito dopo il terremoto abbiamo ricevuto comunicazioni dall'impianto di fukushima dicevano che la normale fornitura di corrente elettrica era stata interrotta fukushima e a soli 178 chilometri dall'epicentro del sisma appena iniziano le scosse l'impianto viene messo in modalità d'emergenza si dà quindi inizio ad uno spegnimento controllato la centrale sembra aver subito solo danni minore ma il terremoto ha distrutto importanti linee elettriche che la alimentano i generatori d'emergenza entrano in funzione per far sì che la procedura di spegnimento continui in sicurezza ore 14 e 55 un allarme tsunami viene diffuso nel paese tutto il pacifico settentrionale è in stato d'allerta compresa la centrale di fukushima alla scuola di erico nessun alunno è rimasto ferito durante il terremoto il piano d'emergenza prevede che l'istituto venga evacuato così erico fa salire i bambini sugli autobus che scendono verso le loro abitazioni sulla costa nessuno qui ha sentito l'allarme tsunami anche l'impianto di fukushima viene evacuato rimane sul posto solo un team d'emergenza il fukushima 50 per far fronte allo tsunami su tutta la costa giapponese le telecamere delle tv riprendono immagini delle onde che si abbattono sul litorale la centrale di fukushima viene investita in pieno e il sito viene allagato il blackout è quasi completo due operai che stanno controllando i danni nel sotterraneo vengono uccisi all'istante le sale di controllo piombano nell'oscurità il fukushima 50 non riesce a monitorare la pressione e la temperatura soprattutto il sistema di raffreddamento è in avaria erico è spaventata potrebbe aver mandato i suoi alunni a morire il percorso dell'autobus correva proprio lungo la costa ed ero terrorizzata all'idea che fosse stato travolto dalle onde dello tsunami al centro di gestione delle crisi arriva il primo ministro naoto kan e viene a sapere che l'impianto di fukushima è rimasto senza energia elettrica vari esperti nucleari vengono chiamati per spiegare la situazione neanche quegli esperti riuscivano a decidere cosa si dovesse fare perché la situazione era assolutamente al di là di qualsiasi cosa avessero previsto i direttori della centrale devono a tutti i costi raffreddare i reattori hanno bisogno di energia dovevamo mettere in funzione i generatori portatili era la nostra ultima risorsa le strade intorno alla centrale sono gravemente danneggiate il trasporto dei generatori si rivela quasi impossibile nella sala controllo del reattore numero uno gli ingegneri stanno cercando di scoprire cosa stia succedendo all'interno del reattore stesso devono ricorrere a batterie di automobili e altri mezzi di fortuna per alimentare gli strumenti ed effettuare misure il livello di radiazioni sta iniziando a crescere gli uomini del fukushima 50 indossano tute e respiratori per proteggersi i loro strumenti indicano che anche la pressione all'interno del reattore sta salendo devono trovare un modo per farla calare al più presto la notizia raggiunge il primo ministro il quale dichiara ufficialmente lo stato di emergenza nucleare ho sentito il primo ministro ripetere più volte quasi a se stesso la situazione è molto grave bisogna agire in modo deciso ma le informazioni su cui lavorare sono pochissime l'unità di crisi non ha lettura in tempo reale e non è in contatto diretto con i direttori della centrale ma nonostante tutto i consiglieri scientifici pensano di avere una soluzione per fermare l'aumento eccessivo della pressione nei reattori la pressione nei vasi di contenimento deve rimanere costantemente bassa per rilasciarla c'è una valvola una volta aperta la pressione viene scaricata all'esterno i consiglieri del primo ministro raccomandano di aprire le valvole per scaricare vapore alla centrale i direttori si oppongono alla proposta temono che lo scarico del vapore possa causare il rilascio di materiale radioattivo nell'atmosfera ma dopo l'ordine del gruppo di crisi il fukushima 50 cerca di localizzare le valvole di sicurezza potendo contare solo sulla luce di torce elettriche non è un compito semplice i contatori geiger portatili rivelano l'aumento dei livelli di radiazioni potrebbe essere dovuto al fatto che il reattore stesso è stato danneggiato durante il terremoto il primo ministro riceve altre cattive notizie i generatori mobili sono arrivati alla centrale ma è sorto un problema lo tsunami aveva sommerso il sito di detriti quindi i veicoli con i generatori mobili avevano grosse difficoltà a muoversi nella centrale e soprattutto a raggiungere gli edifici dei reattori i cavi sono troppo corti per raggiungere i reattori l'impianto rimane senza energia ad otto chilometri dalla centrale di fukushima eriko oriuchi e suo marito sono sempre più preoccupati c'erano voci di fuoriuscite radioattive che ci fossero grossi guai nella centrale da quel momento non mi sono più sentita sicura le autorità locali non confermano le voci il marito di eriko lo svizzero dominic raccoglie informazioni dalle agenzie di stampa internazionali avevo ancora accesso ad internet così ho iniziato a leggere i giornali stranieri erano tutti molto espliciti sulle dimensioni del disastro poi mia moglie mi ha detto che giravano voci che la centrale avesse dei problemi a quel punto abbiamo deciso di partire appena possibile le strade erano danneggiate non sapevamo come lasciare la zona abbiamo deciso di rimandare la partenza alle 5 del mattino percorrere le strade danneggiate al buio sarebbe troppo pericoloso eriko e la sua famiglia decidono di aspettare l'alba alla centrale la pressione all'interno del reattore numero uno è così alta che gli operai temono una sua esplosione imminente e non sono ancora riusciti a localizzare le valvole sabato 12 marzo eriko e suo marito sono pronti a lasciare la loro casa ad otto chilometri dalla centrale di fukushima abbiamo deciso di allontanarci il più possibile dalla centrale siamo partiti alle 5 di mattina e un'ora dopo alle 6 è stato emesso l'ordine ufficiale di evacuazione generale appena un'ora dopo la loro partenza le strade sono bloccate da giganteschi ingotchi decine di migliaia di residenti si dirigono verso i centri di evacuazione e si inizia a diffondere la paura delle radiazioni frustrato dalla mancanza di comunicazioni con la centrale il primo ministro naotokan decide di visitarla di persona abbiamo volato per chilometri e chilometri sopra uno scenario sempre uguale a perdita d'occhio la regione era invasa dall'acqua e non riuscivamo a capire dove finisse la terra e iniziasse il mare una volta arrivato il primo ministro ordina un incontro con i direttori vuole sapere perché le valvole per il rilascio della pressione non sono state aperte ci hanno detto che avrebbero potuto aprire le valvole entro quattro ore più o meno allora il primo ministro ha risposto ci state dicendo le stesse cose da ieri ma non è ancora successo niente perché scoprire le valvole giuste nel buio pesto con livelli di radioattività sempre più alti è molto pericoloso un operaio è già stato portato in ospedale a causa dell'eccessiva esposizione alle radiazioni quando le valvole vengono scoperte la mancanza di energia elettrica le rende estremamente difficili da aprire normalmente vengono manovrate con grossi macchinari alimentati dalla rete elettrica il fukushima 50 deve fare lo stesso lavoro servendosi di batterie da automobile e forza bruta le valvole sono state aperte e come risultato la pressione all'interno del reattore è diminuita immediatamente i direttori della centrale ora credono che il reattore 1 rimarrà al sicuro fino al riallaccio alla rete e all'avviamento del sistema di raffreddamento ma i livelli di radiazioni continuano a salire gli ingegneri sperano che questo sia causato dal rilascio di vapore radioattivo dalle valvole del reattore 1 ma potrebbe significare che la parete d'acciaio del reattore spessa 15 centimetri è stata danneggiata e che la fusione del nocciolo abbia causato la fuoriuscita di carburante nucleare dal reattore stesso il pericolo non è ancora scongiurato ore 15 e 36 una nuova potente scossa colpisce la centrale la centrale ci ha comunicato che aveva sentito una forte scossa l'edificio che ospita il reattore numero 1 esplode quasi immediatamente è apparsa una grande nube di fumo bianco e i livelli di radioattività in tutto il sito sono cresciuti bruscamente nei pressi del reattore 1 i tecnici rilevano livelli di radiazioni mille volte più alti del normale potrebbe essere un altro segno che il reattore è danneggiato e che ci sono perdite e anche gli altri reattori mostrano segni di cedimento abbiamo capito che anche le altre unità erano state danneggiate i reattori numero 1 2 e 3 erano tutti in condizioni gravissime due giorni dopo l'esplosione ancora più forte distrugge l'edificio che ospita il reattore numero 3 è esattamente quello che il primo ministro temeva ero veramente disperato il primo ministro ha alzato la voce con i suoi consiglieri dicendo mi avevate assicurato che non ci sarebbe stata un'altra esplosione perché è successo questo il premier teme una catastrofica fuoriuscita di materiale radioattivo un timore condiviso dal resto del mondo che segue gli eventi in diretta in televisione in poche ore i livelli di radiazioni nella centrale crescono ulteriormente il fukushima 50 continua a non avere alcun controllo sui reattori il primo ministro nao to kan è costretto a dare alcune brutte notizie in un'apparizione televisiva il rischio di ulteriori fuoriuscite di materiale radioattivo dai reattori è sempre più alto 180.000 persone sono ora costrette a cercare un rifugio temporaneo lontano dalle loro case senza alcuna idea di quando potranno ritornarvi erico si trova a 80 chilometri dalla centrale nucleare ma è terrorizzata e cerca di fuggire ancora più lontano abbiamo deciso di andare all'estero ma non c'era neanche un posto disponibile speravamo di poterci allontanare una volta arrivati all'aeroporto ma i voli erano tutti pieni per il giappone e per l'estero erico e la sua famiglia sono costretti a rimanere dove sono e a sperare di non venire contaminati il giorno dopo un'altra esplosione causa un vasto incendio nell'edificio del reattore numero 4 dopo la prima esplosione abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per evitare le altre due ma sfortunatamente i nostri tentativi non sono serviti a nulla questo è assolutamente innegabile quando il fuoco si spegne dall'edificio del reattore numero 4 si alza del vapore un segnale che le barre di carburante esauste immerse nelle vasche di raffreddamento potrebbero essersi surriscaldate causando ulteriori perdite o ancora peggio che si siano fuse i direttori della centrale provano a sommergere le barre per raffreddarle elicotteri chino che iniziano a scaricare acqua dall'alto viene usata acqua di mare che corroderà i macchinari e danneggerà i reattori in modo irreparabile ma il forte vento rende impossibile dirigere l'acqua in maniera efficiente e i livelli di radiazioni nel sito sono così alti che il tentativo deve essere abbandonato solo i vigili del fuoco possono inondare le barre con abbastanza acqua da ottenere un risultato apprezzabile Ichiro Suzu viene richiamato dalle operazioni di soccorso allo tsunami per guidare una speciale task force quando sono arrivato a Fukushima sentivo di dover soddisfare le grandi aspettative di un'intera nazione l'entrata era silenziosa in modo sinistro l'interno della centrale mi faceva venire in mente la scenografia di un film dell'orrore Suzu e il suo team affrontano i pericoli del sito e passano giorni a spruzzare acqua sulle barre esauste Indossano due tute antiradiazioni per proteggersi dal fallout Indossavo le due tute per sette ore di seguito Il caldo era insopportabile, era talmente elevato che il sudore usciva dal filtro del respiratore e collava per terra Era un inferno, non potevo bere o andare al bagno Era una situazione davvero terribile Mentre Ichiro e i suoi uomini faticano a mantenere il controllo l'acqua che spruzzano sul reattore si carica di radioattività che poi finisce in mare A 230 chilometri di distanza, a Tokyo circola la voce che questo potrebbe avere effetti sulle scorte di acqua potabile Il primo ministro deve considerare di ampliare l'area di evacuazione forzata a 250 chilometri Significerebbe ordinare a 30 milioni di persone l'intera popolazione di Tokyo di abbandonare le loro case Sarebbe una decisione senza precedenti Una decisione che nessun governo ha mai preso nella storia moderna Ci vogliono più di due settimane per riportare l'energia elettrica alla centrale Ma ormai è troppo tardi per fermare il disastro E l'acqua radioattiva continua a scolare dai reattori Il Giappone e il resto del mondo vogliono sapere cosa stia accadendo dentro la centrale E cosa abbia veramente causato il disastro Pochi giorni dopo lo tsunami le inchieste ufficiali sono già in corso Il governo giapponese invita l'Agenzia di Controllo Nucleare delle Nazioni Unite a visitare il sito Gli esperti internazionali lavorano insieme ai colleghi giapponesi per far fronte alla crisi in corso a Fukushima E fare in modo che non succeda mai più Alla guida del Comitato Internazionale è il fisico nucleare Mike Waitman Quando arrivi sul sito la prima impressione è molto buona Poi ti fermi e guardi gli edifici dei reattori E vi assicuro che dalle foto dei giornali è impossibile capire il livello di devastazione reale in cui si trova la centrale Tre dei sei reattori di Fukushima sono distrutti in modo irreparabile Ma come tutte le centrali nucleari quella di Fukushima era stata progettata pensando alla sicurezza Il pericolo di incidenti come quelli di Three Mile Island e Chernobyl è sempre presente E in Giappone terremoti e tsunami sono minacce costanti A Fukushima la centrale è protetta dagli tsunami da dighe marittime E i reattori sono costruiti in profondità nella roccia per proteggerli dai terremoti Vari generatori di emergenza sono deputati ad alimentare il sito in caso di blackout Ma nessuna di queste misure di sicurezza è stata sufficiente a proteggere la centrale Ora rivivendo gli eventi di quei giorni e scavandone i risultati delle indagini Possiamo rivelare come sia stato possibile che il disastro sia avvenuto nonostante tutte le precauzioni Mike Waitman esamina le difese di Fukushima per capire cosa sia andato storto Trova alcune falle cruciali nel disegno originale della centrale E sospetta che i progettisti fossero troppo preoccupati dai terremoti e troppo poco dagli tsunami Quando i reattori dal numero 1 al 4 vengono costruiti negli anni 60 Gli ingegneri abbassano il livello del terreno su tutto il sito di 25 metri Questo permette loro di ancorare gli edifici dei reattori direttamente al basamento roccioso sottostante Lo stratagemma impedisce il crollo durante un terremoto Ma li lascia vulnerabili agli tsunami Per questo motivo l'intero sito viene protetto da dighe marittime Sono in grado di respingere onde alte quasi 6 metri Ma è evidente che lo tsunami le ha superate con estrema facilità Le onde dello tsunami del 2011 hanno superato i 14 metri di altezza Hanno raggiunto direttamente il sito e gli edifici dei reattori Quindi la stima dei progettisti si è dimostrata decisamente insufficiente Un operaio registra su video il momento dell'impatto Un altro scatta fotografie mentre varie onde in successione invadono la centrale Le dighe marittime erano troppo basse Questo semplice errore progettuale ha condotto a una catastrofica serie di eventi Che ha messo la centrale in grave pericolo Il terremoto causa un blackout generale Il più forte sisma nella storia del Giappone abbatte numerose linee di distribuzione Nel momento del terremoto i reattori hanno automaticamente fermato le loro operazioni Come dovevano fare Come previsto dalla procedura entrano in funzione i generatori di emergenza Tutte le centrali nucleari hanno sistemi energetici di riserva In questo sito con sei reattori c'erano 13 generatori diesel I quali hanno funzionato come previsto Ma poi arriva lo tsunami Migliaia di tonnellate d'acqua invadono il sito simultaneamente Allagando i generatori diesel I generatori diesel erano sistemati in fondo agli edifici delle turbine E negli altri livelli sotterranei del sito E questo li ha lasciati alla mercè dell'inondazione Le paratie antiallagamento non possono nulla contro lo tsunami La centrale rimane al buio Gli ingegneri non possono controllare la quantità di calore Generato nei vasi di contenimento dei reattori La prima cosa da notare È che i vasi di contenimento dei reattori Sono strutture enormi Grandi più o meno quanto autobus londinesi a due piani Praticamente agiscono come bollitori Nel cuore del reattore Le reazioni nucleari creano calore Il quale produce vapore Che a sua volta spinge le turbine Quando non c'è più energia Si blocca l'afflusso d'acqua necessario a impedire il surriscaldamento del sistema Ma le reazioni nucleari continuano E il carburante continua a produrre calore Il raffreddamento è essenziale Per garantire la sicurezza delle reazioni nucleari Perché un reattore sia sicuro Deve essere raffreddato continuamente I tecnici non hanno l'elettricità Per alimentare le pompe di raffreddamento Le barre di carburante si surriscaldano Fino al meltdown Questo scioglimento Causa il rilascio di grandi quantità di radiazioni E visto che i misuratori di pressione E temperatura sono tutti fuori uso I tecnici non hanno idea Dello stato interno ai reattori Devono improvvisare una risposta d'emergenza Ancora dieci settimane dopo l'incidente Quando siamo arrivati noi C'era un numero incredibile di auto abbandonate All'interno del sito Questo perché i tecnici avevano preso le batterie Per alimentare gli strumenti Nel tentativo di misurare cosa stesse accadendo nei reattori Le batterie delle auto Forniscono ai tecnici Brevi fotografie Dello stato dei reattori Come sapere quant'acqua c'è dentro i reattori? Dov'è quest'acqua? Qual è l'entità del flusso in tutti i sistemi? Alla fine sono riusciti a ottenere le misure Grazie alle batterie Il Fukushima 50 può ottenere importanti misurazioni E riesce anche ad aprire le valvole di sicurezza Ma le letture offrono solo brevi istantanee Di un sistema che si sta surriscaldando E che rischia il meltdown totale Con i sistemi di raffreddamento fermi Non c'è niente che si possa fare per fermarlo Soprattutto Il modo in cui la centrale è progettata Porta a un altro problema irrisolvibile Wetman crede che il disegno datato Degli stessi reattori Abbia avuto un ruolo cruciale Nelle tre esplosioni Le cosiddette barre Contengono tonnellate di carburante nucleare E normalmente vengono raffreddate Da un flusso continuo d'acqua Ogni barra è rivestita Da un sottile strato di un metallo raro Lo zirconio Che protegge le barre dal calore eccessivo Senza impedire lo svolgimento Delle reazioni nucleari Ma al crescere della temperatura Lo zirconio diventa altamente reattivo Nel nocciolo c'è molto zirconio E se si surriscada oltre un certo livello Inizia a reagire con l'acqua e il vapore Creando idrogeno Alcune stime mostrano Che le temperature interne ai reattori Hanno raggiunto i 2800 gradi Celsius È abbastanza per produrre la reazione Tra lo zirconio e il vapore Quando l'idrogeno Che è altamente infiammabile Raggiunge concentrazioni pericolose I tecnici lo scaricano Nel guscio di calcestruzzo Che circonda il reattore Questo provoca la fuoriuscita Di materiale radioattivo L'idrogeno viene poi Lentamente rilasciato con le valvole Ma non tutto Riesce a raggiungere l'esterno Grandi quantità del gas Sfuggono verso le pareti alte dell'edificio E il Fukushima 50 Non può impedire in alcun modo l'esplosione Era pieno di macchinari danneggiati Ci vuole pochissimo A far esplodere l'idrogeno L'aumento della quantità di idrogeno Causa due gigantesche esplosioni Nei reattori 1 e 3 E un devastante incendio nel numero 4 Oltre a ondate di panico In tutto il mondo La crisi nucleare giapponese È ora ufficiale Il livello di gravità È stato ufficialmente alzato Molti esperti europei Pensano che il Giappone Abbia perso il controllo Della situazione Vengono già fatti Paragoni con Cernobil La situazione è molto più grave Di quanto annunciato A preoccupare è il livello della contaminazione E i confronti con Cernobil Ricordano quali possano essere Le conseguenze di un fallout radioattivo globale A Cernobil L'esplosione del reattore Aveva fatto fuoriuscire Nell'atmosfera 8 tonnellate di carburante nucleare Mike Whiteman Valuta la quantità Di radiazioni rilasciate a Fukushima Per confrontare l'incidente Con quello di Cernobil È stato fatto spesso Il confronto con Cernobil Ma in realtà Le radiazioni rilasciate in Giappone Sono state un decimo Di quelle in Ucraina Quindi non si sono diffuse così tanto Weitman sa però Che le conseguenze Sarebbero potute essere molto peggiori Forse altrettanto gravi Che a Cernobil Se l'idrogeno fosse rimasto Nei reattori La pressione sarebbe diventata Talmente alta Che le eventuali esplosioni Non avrebbero distrutto Solo gli edifici di contenimento Ma i reattori stessi Il reattore 3 Conteneva 88 tonnellate Di carburante di plutonio E di uranio Che si sarebbero potute Disperdere nell'aria Esattamente come è accaduto A Cernobil Nel 1986 Il disastro è stato evitato Quando i tecnici Hanno seguito l'ordine Del primo ministro Di rilasciare vapore E ridurre la pressione interna Ai reattori Weitman conclude Che gli ingegneri del sito Hanno preso le decisioni giuste Per evitare danni maggiori Due settimane dopo lo tsunami L'elettricità torna alla centrale E la temperatura interna Ai reattori Viene abbassata gradualmente Ma le barre fuse Sono ancora lì E continuano a rilasciare Radiazioni Ora solo i robot Possono avvicinarsi Ai reattori Potrebbe passare un decennio Prima che gli esperti Possano esaminarli In sicurezza E capire con precisione Come la fusione delle barre Abbia causato Un rilascio di radiazioni Di questo livello Sapendo come le difese Della centrale Abbiano fallito Causando una catastrofica Serie di conseguenze Mike Weitman Ora cerca di capire Se la società Che gestisce la centrale La TEPCO Avrebbe potuto fare qualcosa Per evitare il disastro E' probabile Che ci siano state negligenze Nei momenti precedenti Allo tsunami Nel 2002 La TEPCO Prende parte A uno studio Sull'impatto degli tsunami Sulle centrali energetiche Gli esperti Conclusero Che c'era Lo 0% Di probabilità Che nei successivi Trent'anni Si verificasse Un terremoto Abbastanza forte Da causare Uno tsunami Pericoloso Per Fukushima Si sbagliavano Non hanno considerato Nel modo migliore Il pericolo tsunami Non si devono mai sottovalutare Gli eventi naturali rari E bisogna considerarli In fase progettuale La TEPCO Sostiene di aver preso Tutte le misure Appropriate In base alle informazioni Disponibili Ammette di non aver Considerato Uno tsunami Di questa potenza E assicura Che dopo l'incidente Ha fatto tutto il possibile Per stabilizzare I reattori Dopo il disastro Si levano numerose proteste Sulla gestione Della catastrofe I residenti Come Erico Sostengono Di essere stati Informati male E in ritardo Sui pericoli potenziali Causati dalle esplosioni E danno la colpa Sia alla TEPCO Che al governo Centrale Non girava Alcuna informazione Sulle radiazioni Tutto ciò Che sapevamo Era che si parlava Di espandere La zona di evacuazione Il governo stesso Ha faticato Ad assicurare La circolazione Delle informazioni Il primo ministro Era sinceramente Disposto a fornirle Ma dipendeva Dai suoi consiglieri Immediatamente Dopo l'incidente Il primo ministro Ha chiesto agli esperti Cosa pensate Che succederà Ora a Fukushima Ma nessuno È stato capace Di rispondergli Chiaramente L'unica cosa Che hanno detto Con sicurezza È stato Visto il progetto Della centrale L'idrogeno L'idrogeno Non causerà Esplosioni Noi abbiamo pensato Se non possiamo Credere a loro Allora A chi possiamo Credere Gli esperti Del primo ministro Avevano pochi dettagli A disposizione Perché la TEPCO Non dava informazioni Cosa sapevano Veramente I soggetti Che avevano A che fare Con la centrale Di Fukushima Tra cui la TEPCO Siamo sicuri Che abbiano condiviso Col governo Tutte le informazioni Il primo ministro Naoto Kan È rimasto coinvolto In eventi Al di fuori Del suo controllo Cinque mesi Dopo lo tsunami È stato costretto A dimettersi Senza che si intravedesse Una possibile soluzione Al disastro Alla centrale I reattori Sono stati portati In spegnimento freddo Ma continuano Ad essere Pericolosamente radioattivi È chiaro Che l'incidente Non è ancora Completamente Sotto controllo E passeranno anni Prima di avere Accesso A tutto il sito Nonostante questo La comunità mondiale Ha imparato abbastanza Da quanto è successo A Fukushima Alcune nazioni Hanno deciso Che la lezione Da imparare Sia una sola Nel maggio del 2011 Due mesi Dopo il disastro La Germania Decide di fermare Il suo programma nucleare E concentrare I suoi investimenti Nella ricerca Sulle fonti energetiche Rinnovabili La Svizzera E l'Italia Seguono l'esempio Il Giappone Soddisfa il 30% Del suo fabbisogno Energetico Grazie al nucleare In mancanza Dell'apporto Di Fukushima Tokyo si trova Spesso a corto Di energia elettrica Il nuovo primo ministro È deciso Nel far continuare Il programma nucleare Nazionale A Fukushima Gli operai Che sono rimasti A lottare Con la centrale E i vigili del fuoco Come Ichiro Suzu I veri eroi Di questa vicenda Hanno ricevuto Rassicurazioni Dai medici Ma anche qui Ci vorranno anni Prima che tutte le conseguenze Vengano alla luce La maestra Eriko Non è riuscita Ad andare Oltre l'aeroporto Oggi vive con la sua famiglia In un appartamento A circa 80 chilometri Dall'impianto L'autobus Su cui viaggiava La classe dell'asilo Ha evitato Lo tsunami Tutti i bambini Si sono salvati Nell'area Che circonda Fukushima Gli effetti Del disastro Si faranno sentire Per molti anni L'accesso È tuttora proibito Nel raggio Di 20 chilometri Dalla centrale Tutte le fattorie Sono state abbandonate 4 centimetri Di terreno radioattivo Dovranno essere rimossi Da ogni pezzo Di terra fertile Ma per ora Nessuna coltivazione Può essere avviata Potrebbero passare 10 anni Prima che le 100.000 persone Ancora ospitate Dai centri di accoglienza Della regione Possano tornare Alle loro case Per i